Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Canicattì. Il Presidente Alberto Tedesco ha convocato una riunione per il prossimo giovedì 22 marzo alle 19 nell'Aula Consiliare che si trova al primo piano del Palazzo Municipale di Corso Umberto. Otto i punti inseriti all'ordine del giorno dei lavori. Oltre alle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali al Sindaco e agli Assessori, si procederà alla discussione della mozione sulla intitolazione di strada comunale presentata dai consiglieri del gruppo Canicattì Civica, Mimmo Licata, Fabio Di Benedetto, Giuseppe Lo Giudice, Rita Parla, Umberto Palermo e dal consigliere indipendente Ivan Trupia. Poi si passerà alla proposta di delibera sul controllo finanziario degli enti locali, rendiconto esercizio 2015 e bilancio di previsione 2016, misure correttive adottate dall'organo consigliare, atto proposto dal responsabile di posizione organizzativa Carmelina Meli. A sesto punto poi c'è la proposta di delibera per l'approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie predisposto dal funzionario Antonio Pontillo e ancora l'approvazione dello schema di convenzione del servizio comunale di tesoreria. E infine l'approvazione del piano finanziario delle tariffe 2018 sulla tassa sui rifiuti, quella tassa tanto odiata dai cittadini che sono costretti a pagare per un servizio scadente per le periodiche ripetute emergenze come quella che si è registrata in questi giorni e che ha lasciato la città in mezzo alla spazzatura. Una emergenza che ha costretto gli operatori a lavorare anche di notte. Dopo una notte di intenso lavoro proseguito nella giornata di oggi, dice il sindaco Ettore Di Ventura, siamo riusciti a ripulire gran parte della postazione occupata da rifiuti nella parte sud della città. Gli operatori della SRR stanno continuando instancabilmente a lavorare liberando le parti ancora invase dai rifiuti. Centro storico, Chiesa Maria Ausiliatrice, uscita per Campobello di Licata, via Regione Siciliana e via Vittorio Emanuele. Manca davvero poco, conclude il sindaco e finalmente potremmo dire di aver superato questo momento difficile.